La terza Pelliccioni dovrebbe essere questa, la coppia da cui ripartirà il Monopoli. In panchina l'allenatore di Fasano, reduce da un biennio a Taranto, culminato con una vittoria del campionato di Serie D e una salvezza al suo primo anno d'allenatore in Serie C. Sulla scrivania invece uno dei direttori sportivi più esperti dell'intero panorama della terza serie nazionale, Alfio Pelliccioni, per lui sarebbe un ritorno all'età di 67 anni, all'obiettivo di confermare il campionato di altissima classifica fatto dalla squadra nella stagione appena conclusa. Sembrava essere Mirko Cudini il preferito della società bianco-verde che poi ha virato sull'allenatore del Taranto, una volta subodorato il fatto che la terza non avrebbe continuato la sua avventura con gli Ionici. Porterebbe con sé l'intero staff composto da due monopolitani, il preparatore dei portieri Giovanni Indiveri e il secondo Giuseppe Lentini. Nel ruolo di preparatore atletico invece dovrebbe restare Renzo Ricci. E' atteso in queste ore anche l'incontro con Alfio Pelliccioni, che però dovrà sistemare prima la sua situazione con il Catanzaro. Una volta definiti i quadri tecnici partirà ufficialmente il calciomercato.